Allora, eccoci qua ragazzi, finite finalmente le amichevoli estive, adesso è tempo di fare sul serio, è tempo di giocare per i tre punti, tempo una settimana e parte la stagione della Juventus e questo onestamente mi rende molto felice perché non vedo l'ora veramente che inizi la stagione ufficiale, che cominciano le partite ufficiali, che si torni veramente a combattere sul campo per i tre punti. E quindi bene così, ma bene così perché anche questa sera la Juve ha confermato secondo me una striscia positiva che ci ha fatto vedere in questa preseason, lo abbiamo detto milioni di volte, è sempre calcio d'estate, per cui sono tutte considerazioni che lasciano un po' il tempo che trovano. Allo stesso tempo però questa sera secondo me è partita vera, soprattutto i primi 60 minuti, fino magari 65-70 minuti, è stata davvero una partita vera contro un avversario vero, contro un avversario tosto, che probabilmente anche quest'anno darà del filo da torcere per la qualificazione alla Champions League, quindi per la battaglia delle prime quattro posizioni in Serie A. Devo dire che sono soddisfatto, nel senso che se la Juventus gioca così quest'anno, secondo me ci possiamo divertire, ma soprattutto possiamo mettere in discesa la corsa, proprio la qualificazione alla Champions League, e chissà, magari anche un qualcosina in più, se magari ci sarà qualche innesto in questa rosa, che sicuramente è una rosa che deriva dallo scorso anno, che a un momento l'ha varuto praticamente solo in uscita, solamente con l'innesto di UEA. Ma per giocare così non intendo tanto nella qualità tecnica, o meglio, la qualità delle giocate, le trame che si sono viste specialmente nei primi 45 minuti, sono conseguenze dell'atteggiamento. Cioè io quando dico giocare così parlo proprio di atteggiamento, cioè l'attitudine che poi si viene anche testimoniata da quelli che sono i bordocampisti, in questo caso di Sky, ho visto la partita su Sky, che rimarcavano come Landucci e Allegri chiedessero alla squadra nei primi 45 minuti di alzarsi, di tenere, di cercare di schiacciare l'Atalanta nella propria metà campo, e credo che questo sia un segnale che avevo, avevamo già sottolineato, avevamo già notato nelle vecchie partite, nelle vecchie amichevoli, nelle scorse amichevoli, e che questa sera secondo me ha trovato un po' il suo apice, perché mettere così tanto in difficoltà l'Atalanta nell'uscita palla al piede, nell'uscita dal basso, con un pressing di questo tipo, o con dei palloni recuperati direttamente, o con magari l'Atalanta che era costerta proprio a lanciare il pallone, ecco questo secondo me è proprio il segnale più bello, ma che spero poi di vedere a partire proprio da domenica prossima contro l'Udinese per l'esordio in Serie A. Cioè io spero di vedere questa fame, questa concentrazione, questa aggressività anche nelle partite ufficiali, e che non sia solamente un fuoco di paglia che tu hai provato solamente perché non c'era nulla in paio, noi mi riferisco soprattutto ad un allegro, un allenatore che lo sappiamo è molto conservativo da questo punto di vista, ma chissà che magari anche lui, vedendo un po' come sono andati gli ultimi due anni, si sia messo un po' in testa di cercare di cambiare anche questo modo di difendere, quindi una difesa più all'attacco. E cosa che questo abbia portato veramente i suoi frutti, perché poi dopo sono venute fuori delle belle trame, sono venute fuori delle ottime occasioni da gol, è abbastanza incredibile come la Juve non abbia finito almeno con un gol a referto, vedendo le occasioni che sono state create, e quindi questa è veramente la cosa più positiva. La cosa che mi ha sorpreso sono stati i movimenti delle punte, non solo, non solo nel primo tempo, ma anche nel secondo quando davanti giocavano Ildiz e Milic, perché c'è proprio questo modo di mettersi un po' contiano, se vogliamo, un po' alla Conte, cioè con la seconda punta che si mette proprio sotto la punta, magari velo, velo 1-2 scarico, quindi si cerca magari 1-2 in questo senso qua, si cerca sempre lo scambio, c'è comunque la prima punta, comunque sempre lo scarico sotto. In due o tre occasioni, soprattutto nei primi 45 minuti, c'è stata questa giocata, palla dritta anche direttamente da Bremer, da Danilo, da Aleksandro, palla su Vlaovic, che è stato più pulito del solito, appoggio per Chiesa, che faceva sempre il ricciolino sotto Vlaovic, il ricciolino e poi dopo l'apertura su uno dei due esterni. Queste sono state le cose che onestamente mi sono piaciute di più e sono rimasto anche felicemente sorpreso dal modo in cui il Juventus ha saputo riempire l'area di rigore con tanti uomini, con tanti giocatori, cosa che non avviene spesso, anzi, viene davvero di rado nel Juve di Allegri. E questo secondo me è una cosa buona, è una cosa positiva, ma ripeto, credo che sia soprattutto conseguenza, credo che sia soprattutto effetto di questo modo di difendere in avanti, che io lo dicevo anche l'anno scorso, specialmente con i difensori e chi hai tu, è una cosa che la Juventus deve tornare a fare, quella di stare attenta alle marcature preventive, essere aggressiva nelle marcature preventive, preparare già l'anticipo, cercare di schiacciare la squadra avversaria nella propria metà campo, cercare di avere sempre il controllo della partita in questo senso, poi ci stanno quei 5 minuti nel corso di un tempo, di una frazione di gioco, dove ti prendi quei minuti per riposare con il baricentro più basso, ci sta, è sacro santo, però vedere comunque che l'atteggiamento, che il fileruge della partita, comunque di quella che è anche l'implementazione tattica della partita di 90 minuti, ti porta ad avere questo tipo di atteggiamento, questo secondo me è il segnale migliore. Non ho ben capito quello che ha fatto Cambiasso nel corso della partita, perché girava ovunque, una volta ce lo siamo beccati mezza punta, una volta ce lo siamo beccati esterno, che dovrebbe essere il suo ruolo, una volta da mezzala, una volta si è messo al fianco di Locatelli a fare il play, quindi non so se fosse un'indicazione chiara dell'allenatore, dello staff tecnico, se fosse una cosa preparata, se fosse una cosa totalmente improvvisata dal giocatore, ma comunque mi ha dato quella sensazione di creare un po' quel caos positivo, che magari scompiglia anche un po' e toglie un po' anche i riferimenti agli avversari. Questa cosa è sicuramente da notare, da sottolineare, ma al di là di questo, finalmente ragazzi, torno a vedere una cosa che nel calcio è la BC, ma che la Juventus aveva perso, cioè do il pallone e mi butto nello spazio, il famoso dai e vai. Sono tornato a vedere dei giocatori, soprattutto dei centrocampisti, ma parlo anche degli attaccanti, parlo anche dello stesso Chiesa, dei giocatori che quando hanno il pallone e lo scaricano, si buttano nello spazio, vanno a creare quella soluzione in più, danno quelle opzioni in più, quella soluzione in più al compagno, non rimangono fermi a guardare lo svolgimento dell'azione, ma si buttano dentro, accompagnano l'azione, ripeto, creano quell'opportunità in più, do il pallone e mi butto nello spazio, chiedo 1-2, chiedo lo scambio, scarico e mi butto, scarico, libero lo spazio e lo spazio viene coperto da un mio compagno. Questa è forse la cosa che mi rende più felice, ma perché poi quando tu crei questi movimenti, crei questi spazi, in modo naturale poi si vanno a formare anche tutte le occasioni da gol, che la Juventus questa sera ha prodotto e purtroppo non ha capitalizzato, ma comunque ha prodotto nel corso dei 90 minuti, soprattutto nel corso dei primi 45-60 minuti. Quindi anche questa è una cosa positiva. Se devo trovare un neo è che la manovra della Juve mi sembra troppo sbilanciata sulla sinistra, probabilmente perché Chiesa si abbassa per ricevere il pallone, quindi cambiasso è più libero di andare ad occupare lo spazio e se magari non è cambiato a farlo è Rabiot da quella parte lì, mentre UEA è un giocatore che viene meno dentro al campo, che dà sempre molto l'ampiezza, quindi quando la Juventus svolge proprio l'azione di possesso palla c'è sempre molto sbilanciamento dalla parte sinistra, invece scompe l'azione dovrebbe essere un pochino più bilanciata da entrambe le fasce, cosa che invece si è vista nel secondo tempo, perché ha giocato da mezzala su l'E, che quindi lui nasce esterno, andava a far l'esterno, e quando lui andava a far l'esterno UEA veniva dentro al campo. Un po' quello che nel primo tempo hanno fatto Cambiasso e Federico Chiesa. Questa è l'unico neo di questa serata. Per il resto, io mi sono anche sufficientemente divertito, essendo l'ultima amichevole della stagione, i giocatori giustamente hanno anche tolto la gamba, ma adesso ragazzi si entra finalmente in questa vigilia di preparazione di Udinese Juve. E la Juve, veramente, i bianconieri devono prepararsi ad essere pronti per andare a combattere per i primi tre punti.